Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Inizia il tour europeo della Fiorentina Viola in Germania Questa sera è il quadrangolare con i padroni di casa del Duisburg Il Fulham e l'Atletic Bilbao Intanto si continua a lavorare sul mercato Per il centrocampo piace Grassi del Napoli Ma la richiesta è troppo alta I gigliati sperano in un tesoretto dalle cessioni da poter investire Braccio di ferro tra Depol e Ludinese Il giocatore apre alla Fiorentina Che però non ha l'accordo con i friulani Per l'attacco prende piede la pista Sansone Il Villareal apre ad un prestito con diritto di riscatto Dalle pagine della Nazione Il padre di Gerson mette fine alle voci sul viaggio lampo a Roma di mercoledì Nessuna fuga la Fiorentina per noi è un sogno Per Fiorentina1.com Beatrice Canzedda Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Viola Tweet Viola Tweet Seu Viola Tweet